il volto e la voce del comico Gianni Fantoni. In passato, Fantoni ha imitato Fantozzi innumerevoli volte, ha anche recitato in una particina nel film Fantozzi 2000, la clonazione, 1999, decima e ultima puntata della celebre saga. A breve, Gianni Fantoni debutterà a teatro nello spettacolo Fantozzi, una tragedia, e la genesi di questo spettacolo è raccontata nel libro Operazione Fantozzi, pubblicato da Sagoma Editore. Gianni Fantoni, lei è l'erede ufficiale di Fantozzi, con tutti i sigilli e i bolli notarili. Sono l'erede anche legale, nel senso che i diritti li ho acquisiti io, non lo può più fare nessun altro anche, e quindi sono, diciamo, a parte l'erede fiscale, sono anche l'erede naturale, designato da Paolo, perché ci siamo incontrati innumerevoli volte, e lui era ben al corrente di come io lo imitassi, di quali fossero, diciamo, le capacità che, insomma, più mi avvicinavano a lui, anche da un punto di vista fisico, perché purtroppo il sorteggione universale ha fatto sì che i nostri numeri fossero vicini, per cui siamo una specie di gemelle Kessler sparsate di un quarantennio. E quindi, insomma, mi sono ritrovato più volte a interpretarlo, prima a imitarlo, naturalmente, e adesso a interpretarlo. La differenza fondamentalmente è che un'imitazione è una specie di fotocopia, un'interpretazione è tridimensionale, per cui si aggiungono delle emozioni che in una imitazione, per tanti motivi, magari delle volte non ci sono. E quindi, insomma, mi trovo a interpretarlo a teatro in una cosa inedita che nemmeno lui ha mai affrontato, cioè Fantozzi a teatro. Gianni Fantoni, l'ultimo film di Fantozzi, è del 1999. Il suo creatore, Paolo Villaggio, è morto nel 2017. Perché lei ha voluto mantenere in vita questo personaggio? Fantozzi è figlio di un'altra Italia, un'Italia di impiegati e di grandi aziende nel tempo del boom economico. Dunque, cos'ha ancora da dirci Fantozzi? È diventato una maschera e quando diventa una maschera a un personaggio, perde la contemporaneità e diventa un classico, per cui scavalca il tempo e diventa immortale. Questo è successo ad Arlecchino e succede anche a Fantozzi. È talmente ben delineato, è talmente ancorato in un mondo che è perfettamente definito che è come Topolino. Non è che siccome Topolino è stato creato cent'anni fa, adesso non vale più. I rapporti che incastra e che lo tengono vivo, Fantozzi, sono validi anche oggi. Perché è vero che il mondo del lavoro è completamente cambiato, però gli sfruttati ci sono anche adesso, i capi ci sono anche adesso, l'arroganza del superiore non tramonterà mai. Ci sono quelli che si credono i più furbi di tutti, come i calboni della situazione, che poi in realtà sono delle serpi in seno. Ci sono quelli che non riescono a sposare la modella che si vede su Instagram e sposano la vicina di casa, che magari non è altrettanto avvenente. Per cui ci sono una serie di cose che valgono e sono perpetue, non è che scadano col tempo. E Fantozzi, perché è ancora valido? Perché è ancora moderno? Per questa sua incapacità a morire. Nel senso che lui, nonostante la bomba atomica e quello che dopo viene fuori dalla macerie, è ancora vivo. Si piega ma non si spezza. Ma lei ha mai visto la corazzata Potionchi? No, io non l'ho mai vista. Però posso dire anche legalmente che la corazzata Potionchi è una cagata pazzesca!